Ogni persona, studente oppure no, che entrerà nel laboratorio di scienze dell'Istituto Comprensivo Garibaldi su Biano Capolona, da sabato incontrerà Alessio. Forse non l'avrà conosciuto, ma la conoscerà attraverso un'aula all'avanguardia nelle attrezzature che l'associazione Ale per sempre, guidata dal suo babbo Fabrizio Fiorentini, ha realizzato e che è stata inaugurata proprio sabato scorso alla presenza di tantissime persone. Se siamo qui è perché Alessio è riuscito a trasmettere qualcosa e questo laboratorio è stato fatto grazie a tutti, grazie a chi ha collaborato, a chi ha promosso il progetto, a chi ha promosso iniziative per raccogliere fondi e chi fisicamente l'ha finanziato. Questo laboratorio deve servire a tutti, deve servire come esempio, deve servire a beneficio di tutti i ragazzi, non solo delle scuole medie dell'Istituto Garibaldi, ma anche agli altri ordini di studio, alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, perché ci sono dei kit con esperimenti adatti a tutti, a qualsiasi livello. E quindi quello che volevamo noi è che fosse a beneficio di tutti e perché no anche dei cittadini, perché nessuno ci vieta di fare dei laboratori anche fuori dall'orario scolastico, aperti a tutti. Vediamo. Il laboratorio non si ferma qui. Questo è un buon risultato, ma non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Passato la botta iniziale, quello che ho iniziato a pensare, a credere, che tutto questo amore che c'era verso questo ragazzo e questo dolore che ci aveva colpito, tutta questa energia poteva essere canalizzata in una maniera positiva. Da un'idea è venuta fuori una cosa meravigliosa.